Non posso rilasciare l'ichiarazione, lo sapete, l'udienza chiamava il Consiglio, quindi posso solo dire che mi sono posto al fermo, sostenendo che non c'era pericolo di fumo. Le accuse quali sono? Però c'è una gravante? Le accuse vanno chieste appunto dal Ministero. E le possiamo chiedere su che cosa è stata richiesta questa convalida del fermo? Che prove hanno? Io le dico quello che ho detto io. Ha parlato? Mi sono posto alla convalida del fermo, ritenendo che non mi siano i presupposti, mancando il pericolo di fuga. Per il resto posso dire che è un processo diciamo abbastanza complesso, che sono molti i temi che vanno indagati, e che le rispettive difensive verranno prese quando tutte le tematiche verranno profondate. Il suo assistito si avvalcia la facoltà di non rispondere? Sì. Ha chiesto della mamma? Vi ringrazio. Grazie a lei, buon lavoro. Un altro da dire, grazie a lei. A me.